Amici di Street, siamo presso la Camera di Commercio di Catania e stiamo praticamente seguendo una conferenza stampa molto importante che riguarda un po' l'aiuto fondamentale per le piccole e medie imprese. C'è il commissario Antonino Belcuore che sentiremo a breve per capire quali sono le iniziative che verranno messe in atto per far sì che le imprese non si sentano sole perché le difficoltà sono veramente tante per la Sicilia in generale per la piccola e media impresa. Vedete dall'alto dei balconi del Palazzo della Borsa, si vede Piazza Stesigoro, si vede la storia di questa città e un'importante location e tra poco al suo interno cercheremo di sapere e di capire come ci si sta muovendo per delle risposte concrete. Antonio Belcuore, l'iniziativa è molto importante perché volta verso quel settore che mantiene l'Italia, le piccole e medie imprese? Assolutamente sì, tra l'altro segue quasi, ma è soltanto un caso, l'intervento ieri del governatore della Banca d'Italia a Catania che ha proprio sottolineato l'importanza di questo ambito del settore produttivo e anche le difficoltà che le nostre piccole e medie imprese hanno nel collocarsi sul mercato nell'andare avanti sulla transizione ecologica e digitale. L'iniziativa di oggi vuole proprio cercare di dare la possibilità di strutturarsi a quelle piccole imprese del nostro comprensorio delle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa, su alcuni ambiti, quali la transizione ecologica e digitale, la sicurezza sul lavoro assolutamente importante e all'abbattimento delle barriere architettoniche per le imprese turistiche ricettive. Accanto un strumento che possa favorire l'internazionalizzazione e quindi lo sviluppo del mercato estero per i nostri prodotti attraverso l'acquisto da parte della Camera di Commercio del 2% delle quote di Promos Italia, che è una società del sistema camerale che si occupa specificamente di questo ambito. Con le imprese come guardano a questa iniziativa? Spero che lo guardino con attenzione. Noi stiamo mettendo sul campo circa 2 milioni di euro di investimenti che per la Camera è un investimento consistente. Proviamo in questo modo a restituire alle imprese un po' di quello che le imprese danno alla Camera di Commercio. Anche perché le imprese siciliane boccheggiano, nel senso che spesso sono in difficoltà per varie questioni che sono legate ai trasporti, alla sicurezza, insomma a tante carenze. Sì, diciamo questo sì, i problemi infrastrutturali non possiamo essere noi a risolverli. Proviamo a dare una mano per la parte che ci compete. Bene, amici di Street, avete sentito le parole del commissario Antonio Belcuore. Sono parole importanti che fanno capire che c'è un'attenzione particolare per le piccole e medie aziende. Ci sono degli aiuti fondamentali per far sì che si possano abbattere quelle barricate che si sono create, quei muri di gomma che hanno creato particolari problemi alle aziende. Si cerca di dare ovviamente un po' di respiro. È chiaro che non saranno tutte queste le soluzioni del caso, però siamo consapevoli che comunque qualche cosa si sta muovendo e che qualche cosa dovrebbe cambiare nel contesto generale. Allora siamo arrivati alla fine, come sempre io vi ringrazio per l'attenzione. Vi esorto a continuare a scriverci a redazione a chiocciolaspazionotizia.it e a telefonare al 3792 24 24 20. Noi saremo sempre a vostra disposizione e raggiungeremo i territori. È ovvio che non ci occuperemo solo dei territori ma delle problematiche che sono ovviamente da voi evidenziate anche parlando di servizi pubblici di ogni genere. Saremo a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.